Un cosiddetto pizza box con 195 flaconcini utili a vaccinare circa 1000 persone è arrivato alla città ospedaliere in un contenitore refrigerante trasportato da un furgone scortato dalla polizia di stato e proveniente dall'aeroporto di Capodichino. I flaconcini sono stati sistemati in un ultra freezer che garantirà la conservazione a una temperatura di meno 80 gradi. Le somministrazioni ai dipendenti aziendali ripartiranno domani quando saranno vaccinati altri 50 operatori sanitari e si procederà ininterrottamente dal giorno successivo dando priorità a quanti tra il Moscati e il Landolfi sono impegnati nelle aree covid. Circa 2000 gli operatori sanitari dell'azienda Moscati da vaccinare per un totale di 4000 somministrazioni con un intervallo di almeno 21 giorni tra la prima e la seconda dose. Le vaccinazioni si concluderanno entro la seconda metà di febbraio. L'ASL partirà invece sabato nei due punti vaccinali degli ospedali di Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi. Intanto mentre si registra ancora un decesso un 79enne di Montoro è risultato positivo il sindaco di Prata Principato Ultra Bruno Petruziello, medico in servizio al Fatebene Fratelli di Benevento. La situazione è sotto controllo e siamo in isolamento. Mi sono posti in isolamento perché sono anche sindaco quindi ho usato per me le misure adottate per altri. La mia famiglia è un nucleo familiare convivente in quarantena. In municipio com'è la situazione? Tranquilla, è stato sanificato però i suoi dipendenti, sia il consigliere comunale si sono stato posti a tampone, tutti negativi.